Ragazzi è appena uscito il mio nuovo merchandising realizzato con la massima qualità ma soprattutto pieno di sorprese Andate su mattiz.it, trovate il link in descrizione 3, 2, 1 Oh mio dio, oh mio dio cromatico Se c'è un beati che esplode tu, oh mio dio Cosa mi state dicendo? Un altro! No no raga, raga Voglio 100.000 mi piace per questo video E ciao a tutti ragazzi sono Mattiz e benvenuti in un nuovissimo video molto ma molto speciale Ho finalmente preso la patente, eccola qui Adesso mi vedrete sfrecciare per le strade di tutto quanto il mondo Solo che ho pensato a un modo per rendere speciale un evento del genere Cioè la prima macchina di Mattiz e mi son detto cosa potrei fare di così speciale sul mio canale E boom, al posto di andare a guidare faremo un box opening Penso di essere l'unica persona che quando prende la patente al posto di guidare subito la macchina Ci fa un box opening dentro Cosa che tra l'altro avrei potuto fare anche prima di prendere la patente Perché alla fine mi basta stare seduto in una qualsiasi macchina Ma no, noi dobbiamo fare tutto alla perfezione Mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel mi piace in questo esatto momento Per fare un altro box opening in dei posti assurdi Anzi consigliatemi voi un posto nei commenti dove dovrei fare un box opening E superiamo i 30.000 like Questo account ovviamente è dedicato a questo video E si chiama MZ macchina Come non poterlo chiamare MZ macchina L'obiettivo di oggi sarà trovare un sacco, un sacco e dico un sacco di brawler E voglio almeno un brawler epico Vediamo se la macchina ci porterà a fortuna Abbiamo 950 gemme come sempre che sono tantissime E subito una cassetta ad aprire qua Ce l'andiamo a prendere subito Un oggetto Wow, incredibile Vabbè, partiamo con calma no? Io direi che per iniziare alla grande possiamo shopparci il brawl pass in macchina per la prima volta Ci andiamo a prendere quello con 10 soglie 249 gemme 3, 2, 1 Boom Scrivetemi in questo esatto momento nei commenti un brawler che secondo voi troverò in questo box opening E non valgono i brawler verdi Dai, rosa è semplice da trovare Lo volete conoscere il segreto di questa macchina? Ci basterà battere qui sul finestrino, sentite? Per trovare un brawler Esatto Questa macchina ha dei poteri magici Non mi credete? Va bene, non mi credete, non mi credete Ci scommettete che io adesso chiudo gli occhi e trovo un brawler? 3, 2, 1 Clicco, occhi chiusi, attenzione Oh mio Dio, nuovo brawler! Abbiamo Brock Ok, vabbè, forse non faceva ridere Dai, però è stato figo, vedete? Ho battuto sul vetro e ho trovato Brock E guardate qui, e ne trovo pure un altro Perché questa macchina ha un'aura potentissima Ok, vabbè, questi in realtà li trovano tutti quanti Si è capito, lo so Andiamo subito di cassa enorme Però adesso basta perdere tempo Ripeto, basta perdere tempo Subito due oggetti Significa che non troveremo niente Abbiamo Brock E poi abbiamo i punti di Shelly Non mi piace molto come situazione Qui inoltre si muore di caldo Mi sa proprio che aprirò anche questa sportello Bene, bene, bene Pronti ad aprire la prossima cassa Obiettivo di oggi trovare almeno 5 brawler Al momento siamo solo a uno che è Brock Fammi trovare un altro brawler Non penso ci sia niente Qua abbiamo Shelly e abbiamo Brock Comunque non so Mi servono almeno, vabbè, 3 skip nella prossima cassa enorme Uh, abbiamo la mega cassa Attenzione, un'ape Un'ape Chiudi tutto Chiudi tutto Chiudi tutto Che se ci sono le api è finita A partire da questo momento morirò di caldo Ma morirò di caldo al 100% Ma c'è un'ape intorno a me E io sinceramente non voglio che entri nella mia macchina Quindi andiamo ad aprire subito la mega cassa Attenzione, voglio almeno 3 skip Se non 4 3, 2, 1 Vai così E ci sono 4 skip Uh, uh Attenzione perché se Brawl non ci trolla Qui possiamo trovare ben 2 brawler Attenzione Abbiamo Brock Qui ci sarà Shelly Eccola qui E attenzione perché il secondo skip è luminoso 3, 2, 1 Eeeh Il primo Va bene Ci sta, ci sta No dai Il prossimo skip non è luminoso Non ci credo Eh vabbè Vuol dire che saranno punti energia di il primo Eccoli qua Immaginavo Ragazzi me la rischio E provo a riaprire lo sportello Ape per favore non entrare Continuiamo il nostro box opening Perché al momento abbiamo trovato solo il primo e Brock Voglio almeno altri 3 brawler Se non di più Oh, abbiamo ancora 700 gemme Cassa e rome per noi La andiamo ad aprire Abbiamo monete Punti energia E il primo Punti energia Se questo posto non porta sfortuna Dopo mi metto nella parte dietro della macchina Magari troviamo il leggendario È nascosto da qualche parte lì Comunque ora andiamo ad aprirci la cassetta brawl Io non sto trovando più brawler nella cassa brawl Non so voi Fatemelo sapere Ma guardate Nulla Non c'è mai nulla nelle casse brawl Sono diventati inutili Prima io ci trovavo i leggendari nelle cassette Ora invece mi tocca aprire la cassa enorme con 3 skip Ah no, aspetta Potrebbe Potrebbe ma non lo so Abbiamo il primo E non c'è lo skip luminoso Dai brawl pass Mi devi dare almeno un altro brawler Andiamo ad aprirci la cassa enorme Dai 120 monete Solo 2 skip Ma mi sta Oh È luminoso È luminoso Attenzione Non me l'aspettavo Stavo dicendo brawl Ma mi stai prendendo in giro Invece no Mi ha preso in giro Ma mi ha portato fortuna in realtà Ragazzi Qui c'è l'epico Chiudiamo perché qui partiranno certe urla Che la gente qui torna a me si spaventerà Datemi l'epico 3 2 1 Pocio Meglio che riapro lo sportello va E va bene va bene Abbiamo trovato Pocio Quindi al momento siamo già a 3 brawler trovati Ma io voglio qualcosa di più raro Questo brawl pass mi vuole far accontentare dei brawler verdi Ma stiamo scherzando No 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 Qui noi apriamo la cassa enorme per trovarne un altro 2 skip Attenzione Passano i motorini Ma prima anche con 2 skip avevo trovato un brawler Vediamo No Questa volta Questa volta non è la stessa cosa Bene 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 Un'altra cassetta brawler Ormai cassetta brawl Guarda ti apro così a caso Tanto non mi fai trovare mai niente Sei inutile Ma non è che forse la devo far aprire alla patente La cassa Magari con la patente Posso cliccare in questo modo Dato che sono in macchina potrebbe funzionare Vediamo Attenzione Apertura da patentato Boom 1 Skip Skip Ma mi stai prendendo in giro Patente Patente Qui E ci apriamo la mega cassa E ci apriamo la mega cassa Oh ma qua si sta freschi C'è l'ombra Wow Potevo pensarci prima Vabbè comunque Mega cassa aperta dal sedile di dietro Coraggio 3 2 1 Apri Appena esci apri mi clicco Appena esci apri mi clicco Eccolo 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 5 skip E ci abbiamo il brawler Lo sapevo che avrebbe portato fortuna Woohoo E attenzione Qui voglio almeno un super raro Adesso mi sono staccato di trovare quelli verdi E il primo Shelly Qui c'è il luminoso Apriamolo col naso Col naso 3 2 1 Stecca 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 Ora si che iniziamo a ragionare Brawler super raro Vai così Direi che abbiamo concluso alla grande Posso tornare davanti E iniziare adesso Ad aprire tante Tante belle casse Dato che abbiamo aperto una mega cassa Direi di andare tranquillo Con una bella cassa enorme Sono sicuro che anche qui riuscirò a trovare qualcosa di utile Abbiamo due skip Ma Brawler ci ha insegnato che tutto è possibile Quindi clicco Ma in questo caso Niente è possibile No non c'è niente Direi di farmi un'altra cassa enorme Non ci arrendiamo Le casse enormi mi stanno regalando tante gioie Qui potrebbe esserci qualcosa Qui potrebbe esserci qualcosa Guardate la faccio aprire al volante Boom Wow volante Sei proprio un manubrio scarso Si Va bene ho capito Ho capito Volete la mega cassa E la mega cassa Infatti andremo ad aprire adesso Guardate un po' qui Coraggio Usiamo il mignolo della fortuna Il mignolo della fortuna Che mi ha portato un sacco di fortuna Negli scorsi box opening Clicco subito senza fargli aspettare Cinque skip No 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 Non ci voglio credere ragazzi Il mignolo che fallisce così No eh Non c'è niente Non è luminoso No Ragazzi È appena finita la leggenda del mignolo Resterà chiusa In questa macchina Per sempre Addio mio caro mignolo Sei stato un federe amico Ora dobbiamo trovare Qualcos'altro che ci porta fortuna Ecco beh magari La patente no Cosa potrei utilizzare Potrei utilizzare Il mento Proviamo di mento Ora però voglio una cassa enorme Vediamo se la riesco a cliccare No ok Questa la facciamo col dito così E ora clicchiamo col mento 3 2 1 Mento in macchina Uno skip C'è qualcosa che non va Non costringetemi a suonare il clacson eh Capisco Le parti del corpo non funzionano più Dobbiamo utilizzare il semplice dito E utilizziamo il semplice dito Casse enorme Basta sentite ragazzi Ora mi apro due megacasse di fila E voglio obbligatoriamente trovare un altro brawler Non si accettano scuse Attenzione Megacassa Clicco Ok Aspettiamo che dice aprimi Apri sta megacassa Lo so che non l'ha detto Ma questi sono Raga 5 skip 5 skip Non ce la faccio più Oh ma mi state prendendo in giro No 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 Sentite io non lo posso accettare Cioè Oh Così Così vi voglio Così vi voglio Senza neanche aspettarmelo Skip luminoso con 5 brawler rimasti Anzi con 5 oggetti rimasti E ce lo andiamo ad aprire ora Con un bel 3 2 1 Oh 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 mio dio Oh mio dio Oh mio dio cromatico Cromatico in macchina Energetic in macchina Non ci credo Non ci credo Oh oh Signori ha trovato un brawler cromatico in macchina Sì io Non ci voglio credere Energetic Abbiamo trovato energetic È la prima volta in tutti i miei box opening che trovo un brawler cromatico In una cassa Non ci voglio credere Ragazzi altro che brawler epico Abbiamo trovato un cromatico Oh mio dio Non ci sto credendo Ve lo giuro Voglio 50.000 mi piace per un altro box opening Mi raccomando facciamo esplodere questo video Eccolo qui Energetic Non ci voglio credere Vi giuro che non so che cosa dire Non me lo aspettavo minimamente Siamo riusciti a trovare energetic Ed è il quinto brawler di oggi E abbiamo ancora 430 gemme da shoppare Ora che abbiamo trovato questo brawler nella megacassa Io direi di andare un po' tranquilli con le casse enormi Facciamo ricaricare la prossima megacassa E poi andiamo a beccare stavolta il leggendario Voglio corvo Voglio corvo Secondo me ce la possiamo fare Attenzione 3 skip Oh 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 Ah Pensavo ci fosse il luminoso subito dopo un brawler cromatico Invece no Va bene va bene Tranquilli tranquilli Ci andiamo ad aprire un'ultima cassa enorme così Un'ultimissima cassa enorme così E che non ci dà ovviamente niente E andiamo di prossima megacassa Ci riproviamo ancora una volta Non Non avete la minima idea di cosa è successo Non mi voglio non far concludere questo box opening Si è spenta la fotocamera perché si è surriscaldata Dato che nella macchina fa troppo caldo Ci stiamo rendendo conto Qui esplode tutto tra poco Comunque ora fortunatamente è riuscita a ripartire Mi sono messo dietro così c'è l'ombra E non si surriscalda di nuovo E ora continuiamo ad aprire le nostre bellissime casse Allora io direi di andare di megacassa Andiamo subito di megacassa così Oh Oh Ragazzi c'è un altro brawler cromatico o epico leggendario Esplode il box opening Oh mio dio No 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 Aspettate Non esultiamo Con calma Apriamo con calma Stecca Stecca Shelly Shelly Il primo Il primo Attenzione Dammi il luminoso Mamma mia ragazzi è il luminoso Si è chiusa la sportella da solo pure Non voglio sapere perché Mamma mia ragazzi se c'è un mitico esplodo Se c'è un mitico esplode Oh mio dio Oh mio dio Che cosa mi state dicendo Macchina Macchina Tu Tu hai dei poteri magici Macchina Tu hai dei poteri mai visti prima Oh mio dio Ma mi state seriamente prendendo in giro Ma mi state No no ragazzi fermi No mi sto svenendo Non so se sto svenendo per il caldo O per la fortuna Ma non è possibile una cosa del genere Non è possibile In un solo box opening Cromatico e leggendario E questo ce lo andiamo a chiudere tutto con megacasse adesso Non me ne frega niente Non me ne frega niente Ne voglio un'altra Cinque skip L'apriamo velocemente Non ci sto mai credendo nella mia vita Ma proprio mai Cosa mi state dicendo Un altro No no raga 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 se c'è qualcosa qui Io spacco il finestrino Sto scherzando ovviamente Mi sto sentendo male Mi sto sentendo male Energetic Shelly Pocho È luminoso anche questo raga Voglio centomila mi piace per questo video Tre Due Uno Ah ok Bene Bombardino Questa volta posso stare tranquillo Perché con un altro urlo Io finivo male qua Oh mamma mia Resta l'ultima megacassa Ma quanti brawler ho trovato Ultima megacassa per noi E poi abbiamo anche I punti a sufficienza per una cassa enorme Cinque skip L'apriamo super velocemente Andiamo ad aprirci subito anche la cassa enorme Così che non ci dà niente ovviamente E abbiamo concluso in bellezza Abbiamo concluso la grande Cioè ragazzi io non so che dire MZ macchina Account più fortunato Della storia di Brawl Stars Di Mattiz Ve lo giuro MZ macchina Ha battuto qualsiasi record Abbiamo trovato Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Brawler Di cui Un leggendario E un cromatico Un cromatico Ciao super kid Un salutone da Mattiz Benvenuto nella squadra Degli abbonati leggendari Che dire ragazzi Distruggete questo video Di mi piace Condividetelo a tutti i vostri amici Perché forse è il video più cromatico E leggendario della storia In questo momento Compariranno sullo schermo di video Che sicuramente non avete visto Cliccate su quello che preferite E noi ci vediamo In quel video Ciao